Una serata speciale qui all'Esagono per una festa d'estate davvero in tema, tanta gente, tanto divertimento, moda, design, arte e soprattutto un'anticipazione. Accanto a me c'è l'architetto Maurizio Martinello, art director di Napoli Moda Design, perché a Caserta il prossimo dicembre ci sarà Aspettando Napoli Moda Design e ad Esagono naturalmente avrà un posto di particolare rilievo. Intanto l'architetto Martinello è qua accanto a me anche per darci qualche piccola anticipazione, ma non tanto. Certo, noi siamo in una struttura dove tutto quello che riguarda la casa, tutto quello che riguarda i bagni, i rivestimenti, sono tutte opere oggi che vengono fatte dalle aziende, però che si avvalgono anche di artisti. E quindi questo è quello che noi vogliamo mettere in risalto, dei rivestimenti come delle ceramiche, delle mattonelle, delle rubinetterie che sono delle vere e proprie opere d'arte. Come sarà questo Aspettando Napoli Moda Design? Intanto alla Reggio di Caserta per i primi tre giorni, poi dopo ci sarà un'intera settimana in cui si cercherà naturalmente di coinvolgere tutta la città. Certo, faremo un vero e proprio circuito. Noi cosa faremo? Delle preview di quello che poi sarà l'evento che si terrà a Napoli a maggio e quindi delle anticipazioni. Quindi estrapoliamo quello che riguarda la moda, riguarda il design e ne faremo delle anticipazioni. Saremo appunto alla Sala Romanelli, alla Sala della Gloria, al vestibolo della Reggio di Caserta appunto. Ecco, intanto seguiteci, seguiteci, seguiteci perché naturalmente vi daremo piccoli piccoli assaggi di Aspettando Napoli Moda Design. Intanto vogliamo dire anche qualcosa sui casting che già si sono aperti. Certo, allora abbiamo aperto i casting sia per i modelli che per le modelle. È possibile avere tutte le informazioni sui social, la pagina di Napoli Moda Design appunto e anche per i bambini. Facciamo una preselezione online per poi quelli selezionati parteciperanno ai trunk show di moda. Allora, grazie all'architetto Maurizio Martinello, Art Director di Napoli Moda Design e arrivederci a prestissimo.